Non dovesse bastare. Più che un concorso sembrava di essere ad un compito in classe con allunni che si consultavano e si suggeriscono le risposte. Più che un concorso sembrava una farsa. E questa l'accusa lanciata dal coordinatore cittadino del PDL Marcello Taglialatela e dal consigliere comunale Raffaele Ambrosino riguardo al concorso per le assunzioni presso la compagnia di trasporti CPT tenutasi lo scorso 9 maggio. 306 posti di lavoro che, come ci spiega Taglialatela, sono stati assegnati in maniera irregolare. Sì, mi pare che ci siano state una serie di circostanze che possono portare a una richiesta che noi questa mattina inoltriamo, quello dell'annullamento della prova concorsuale, perché è del tutto evidente che le regole, tra l'altro dettagliatamente specificate nel bando, che riguardavano la videosorveglianza e tutta un'altra serie di elementi in ordine alla trasparenza e alla correttezza dello svolgimento della prova, non sono state rispettate. Non ci sono prove al riguardo, ma secondo Ambrosino ci sarebbe anche chi avrebbe pagato una cifra fra i 25.000 e i 30.000 euro per vincere il concorso. Partendo dalle testimonianze di alcuni ragazzi, i quali hanno creato anche un gruppo su social network Facebook, dal nome Pretendiamo Legalità, blocchiamo il concorso Vergogna per il CPT, i due esponenti del centrodestra hanno deciso di presentare un esposto verso la Procura della Repubblica per chiedere l'annullamento del concorso. Alla Procura è stato consegnato anche un floppy disk contenente un filmato a sostegno della tesi dei concorrenti. Oltre a brogli da parte di alcuni partecipanti, i ragazzi denunciano presunte irregolarità nelle domande. Di fianco ai test attitudinali e comportamentali, infatti, sarebbero comparsi quei siti riguardanti il codice etico dell'azienda, domande non previste secondo i criteri di selezione precedentemente specificati. A portare avanti la battaglia legale, a titolo gratuito, è l'avvocato Elia Rosciano, che ci spiega i punti principali dell'esposto. Tra le cose più allarmanti narrate dai ragazzi che hanno voluto redigere una denuncia da presentare alla magistratura sono sicuramente la circostanza che, per esempio, i codici che dovrebbero essere abbinati a ciascun candidato fossero apposti su dei fogli adesivi che potevano essere agevolmente staccati e scambiati o che addirittura fosse il candidato stesso a indicare quale delle varie prove concursuali intendeva effettuare. Quindi, ovviamente, ragazzi con prove concursuali simili potevano scegliere quella più facile a dispetto di quella loro attribuita e quindi compilare in tal modo il questionario.